Cari pellegrini, leggo da un periodico cattolico queste notizie. Secondo un sondaggio IFOP del novembre del 2020, quasi un quarto dei giovani francesi tra i 18 e i 30 anni non si sente né maschio né femmina. Un sondaggio Ipsos del giugno 2023 conferma questa tendenza. Il 22% dei francesi nati dopo il 1997 dichiara di essere LGBT. Su TikTok, la rete preferita dagli adolescenti, i video sugli stili di abbigliamento non binari o androgini fanno registrare milioni di visualizzazioni in Francia. E il social network Yubo, che si presenta come un sito di amicizia per giovani tra i 13 e i 19 anni, ha deciso di incorporare 35 sfumature di genere nella sua applicazione. I suoi membri possono definirsi agenere, poligenere o semplicemente gender questioning, per i più indecisi. Gli organizzatori del Gay Pride di Parigi, l'apparato omosessuale in cui la dissolutezza è in bella mostra, hanno dichiarato alle Figaro di essere stati travolti da un oceano di adolescenti. Ora, queste notizie sono notizie che riguardano la Francia, ma che possiamo anche di fatto ritenere molto simili a quello che accade anche in Italia e in altri paesi occidentali. Ora, diciamolo francamente, qui siamo dinanzi a un disastro antropologico. Noi ovviamente ci preoccupiamo delle guerre in corso, ci preoccupiamo di tutte le problematiche che possono minare la nostra salute e quindi anche, e io ritorno sempre su questo punto, la salute per quanto riguarda il pianeta Terra e via discorrendo, la questione ambientale, eccetera. Ma qui stiamo dinanzi a qualcosa che è molto più grave, che è molto più grave di una possibile terza guerra mondiale, che pure ovviamente ci deve incutere timore, ed è il disastro antropologico. Cioè l'uomo di fatto si sta suicidando e quando parliamo di suicidio antropologico non intendiamo il fatto che l'uomo rischi di morire fisicamente, ma che l'uomo rischi di morire spiritualmente e che l'uomo rischi di scomparire per quanto riguarda la sua vera natura. Perché non ci può essere vero uomo se non rispettoso della sua vera natura antropologica. E la cosa, vedete, che fa ancora più dolore è che tutto questo è qualcosa che si concentra soprattutto sulle nuove generazioni. Io una volta vi dissi che in una vita di San Pio da Petalcina si racconta che un giorno Padre Pio disse ad un figlio spirituale, siamo negli anni 40, verranno dei giorni in cui ai nostri figli non basteranno le lacrime per piangere gli errori dei loro genitori. Vedete che questo disastro antropologico che tocca soprattutto i nostri giovani, è evidente che la colpa di tutto questo sta soprattutto nella nostra generazione. Nella nostra generazione in quanto generazione che ha prodotto un certo tipo di cultura, ma anche ovviamente nella nostra generazione, diciamo così, ecclesiastica. Quindi per quanto riguarda la Chiesa che doveva fare da argine tutto questo e non ha potuto fare da argine tutto questo perché ha scelto un'altra prospettiva teologica, addirittura ha scelto quel famoso cambio di paradigma di cui tanto abbiamo parlato, per cui dalla centralità di Dio si è avuto lo sviluppo di una teologia che ha posto purtroppo l'uomo al centro piuttosto che Dio. E quindi siamo dinanzi a delle rovine, siamo dinanzi a delle macerie. E vedete che quando saremo davanti a Dio, Dio non ci renderà tanto conto di quello che potevamo fare per evitare quella guerra, per evitare quella catastrofe, eccetera. Ovviamente laddove è possibile attivarsi per evitare tutto questo è giusto ed è doveroso farlo, ma Dio ci renderà conto soprattutto se abbiamo posto, almeno per quanto riguarda le nostre convinzioni, per quanto riguarda i nostri piccoli atti, per quanto riguarda il nostro apostolato spicciolo, se abbiamo posto resistenza dinanzi a questo disastro antropologico. Vedete c'è effettivamente da tremare da questo punto di vista, c'è da tremare perché la nostra responsabilità è veramente enorme. Bene cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.